Realizzare a partire dai primi mesi del 2016 un nuovo depuratore a Carrovigno, dare priorità alla situazione che coinvolge Torre Guaceto, area del Mediterraneo di interesse sociale e adottare misure precauzionali per fronteggiare eventuali emergenze, piogge e scarichi abusivi. E' in sintesi quanto emerso dalla riunione convocata nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Puglia, Nichivendola, per discutere della situazione della riserva naturale di Torre Guaceto nel Brindisino. All'incontro hanno partecipato l'assessore competente Giannini, rappresentanti di Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica Pugliese, del Consorzio di Bonifica di Arnio e quello di Torre Guaceto. Il nuovo depuratore che si intende realizzare sarà collegato ad una nuova conduttura sottomarina per migliorare la situazione dello smaltimento dei reflui industriali che coinvolge anche la città di San Michele, San Lentino e San Vito dei Normanni. Intanto il depuratore di Carrovigno è stato sabotato col bagno schiuma. Il 26 settembre erano stati sversati liquami nella riserva marina di Torre Guaceto. Una grande quantità di schiuma bianca aveva invaso l'aria protetta. I tecnici di Acquedotto Pugliese ipotizzano il sabotaggio. Era stata presentata una denuncia ai carabinieri secondo cui ignoti hanno vanno messo le saracinesche dell'impianto e c'era stata la conseguente interruzione del passaggio delle acque depurate verso lo scarico finale. Gli stessi tecnici di Acquedotto Pugliese, alcuni giorni dopo l'incidente, hanno scoperto la presenza di un contenitore di plastica che loro dicono sia un flacone di bagno schiuma a ridosso dello scarico. Sempre evidente, secondo la ricostruzione dei tecnici, la volontà degli attentatori di spettacolarizzare il disastro avvenuto all'indomani dell'entrata in funzione del depuratore. Grazie per la visione!